L'idealmente localizzato entre Plano Lengadussiano e Basso Balado de Rose, Belcaire è ben forse duro in centro commerciale maggi, con un'eguita in particolare per il prestigioso Fieiro della Maddalena. L'historio della Fieiro di Belcaire è serio intimamente legato alla della cruzata contro gli Albigese. Il conto di Toulouse e dei s'angeli victorius del 7 di Belcaire nel 1217 accordano alla Bilo il privilegio di tenere Fieiro. Se Belcaire ha mantenuto Fieiro, la che debuta alla Santa Maddalena demora la mai celebre, coneguata al segle XVII e XVIII su un oro della gloria. Alfonso Dodé, Stendhal o Frédéric Mistral contano un largico uro. Ma c'è un texte in Occita, l'embarasse della Fieiro di Belcaire, che libra lo retrace lo mai prezioso della Fieiro. In 1657, pare il zubratge di Jean-Michel Denisme. Di local si succediguer un marchandotte, vendere dei tapissi e dei stoffi, ma sta bene s'auto in banco, mostrare d'ursi e bestia di Fieiro. La Fieiro è stata festa, in particolare religiosa. Il rendevoce commerciale maggi, la Fieiro riunisce un large ventale di mesties, cordugniere, amulare, di prodotti e di traffico di tutto meno, liciti e illiciti, tutta un'ambianza finamente scritta in lingua d'oc. Ma la modernità s'annuncia. La rivoluzione industriale ha portato i primi batei di Bapur, che rimontano il Curent. Tras l'argo, il punto di batei che religio Belcaire a Tarascù è destinato a desaparecer. E nel 1952, Belca mi defere. Aquellos diferentos evoluzioni marcano progressivamente la fi della grande Fieiro a Nadieira, in tanto che porto d'entrado e descambio di mersos, venguto d'Europa e d'andà con mai. La villa conserva ancora l'astrazzo d'aquest passato glorioso, ama che l'esustale particolare, sa literatura, certo in altre poco, ma la Fieiro existisce ancora, e debito tut giur lo 21 di Giulietta. Grazie a tutti.